Ha rapinato del giubbotto un coetaneo sull'autobus, se l'è infilato ed è sceso, ma nel giro di poche ore è stato rintracciato dai carabinieri nel centro di Oderzo. Il ragazzo, residente nello Petergino, 16 anni appena, è stato denunciato per rapina aggravata alla procura dei minori e collocato in una comunità. Sono stati i carabinieri della tenenza di Oderzo a ricevere lo scorso 19 gennaio la richiesta di aiuto di un giovanissimo che sull'autobus della linea Oderzo-Sandona di Piave era appena stato rapinato del giubbotto del valore di circa 300 euro. A farselo consegnare, sotto minaccia, era stato il sedicenne che subito dopo era sceso dal mezzo pubblico. Le ricerche, scattate dopo la denuncia ai carabinieri, avevano portato di lì a poco l'individuazione del presunto responsabile della rapina che girava in centro con addosso il giubbotto in questione. Restituito il maltolto a legittimo proprietario, su richiesta della procura al Tribunale dei minori, nei confronti del sedicenne è stata applicata un'ordinanza di custodia cautelare in una comunità.